Benvenuti in questo nuovo video di chimica, parliamo di primo principio della termodinamica e soprattutto di entalpia. Parliamo prima di funzioni di stato. Lo stato termodinamico, attenzione, non è lo stato di aggregazione, cioè non si parla di stato solido, liquido o aeriforme, ma è una condizione descritta da relazioni energetiche tra i componenti del sistema. Un classico esempio è l'equazione di stato dei gas perfetti, nella quale le tre grandezze, pressione, volume e temperatura sono proprio chiamate funzioni di stato ed descrivono una particolare situazione in cui si trova, in questo caso, un gas. Le funzioni di stato che incontreremo sono l'energia interna, indicata con Q, l'entalpia, indicata con H, l'entropia S e l'energia libera G. Fu il chimico svizzero Hess che formulò la legge che porta il suo nome. La legge di Hess afferma che l'energia interna, che vedremo tra poco, è una funzione di stato, cioè la sua variazione in una trasformazione dipende solo dallo stato iniziale e da quello finale e non dai passaggi attraverso i quali avviene questa trasformazione. Possiamo generalizzare questo concetto dicendo che le variazioni delle funzioni di stato dipendono solo dallo stato iniziale e dallo stato finale della trasformazione e non dal percorso attraverso il quale si realizza la trasformazione. Il calore e il lavoro, ad esempio, non sono funzioni di stato perché possono cambiare da trasformazione a trasformazione. La temperatura, invece, è una funzione di stato. Classico esempio, come possiamo riscaldare le mani? Possiamo sfregarle tra di loro oppure avvicinarle a una fiamma o a una fonte di calore. Il risultato è un aumento di temperatura che però non dipende da come questo è avvenuto. Il primo principio della termodinamica ne ho parlato in un video di fisica che trovi quassù in alto a destra e una delle possibili formulazioni del primo principio è questo. L'energia può essere convertita da una forma all'altra ma non può essere né creata né distrutta. Se un sistema, ad esempio, cede sotto forma di calore parte della sua energia termica all'ambiente, l'energia complessiva del sistema diminuisce ma quella dell'ambiente aumenta di una pari quantità. Abbiamo cioè un trasferimento di energia. Un sistema possiede una energia interna che è una funzione di stato. Abbiamo visto la legge di Hess in precedenza. viene indicata con la lettera U ed è una grandezza che corrisponde alla somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale di tutte le particelle che compongono il corpo o il sistema. Questa definizione, ricordando quanto detto nel video precedente che trovi quassù in alto a destra, ci consente di dire che per un sistema chimico l'energia interna è la somma dell'energia chimica e dell'energia termica. Bisogna sottolineare però che non siamo in grado di misurare il valore assoluto dell'energia interna di un sistema ma possiamo calcolarne la variazione e lo possiamo fare grazie alla formulazione del primo principio della termodinamica che possiamo esprimere in questo modo delta U variazione di energia interna uguale Q meno W ovvero calore meno lavoro. Attenzione però, bisogna fare una precisazione doverosa e importante, anzi fondamentale. Infatti potete trovare la formulazione del primo principio anche in questo modo. Come è possibile? c'è un segno meno, un segno più. Dipende dalle convenzioni sui segni di calore e lavoro. Tipicamente c'è una differenza tra fisici e chimici, cioè tra libri di testo di chimica e di fisica, perché utilizzano convenzioni diverse per quanto riguarda il segno del lavoro. Bisogna infatti precisare che cosa si intende per calore positivo, calore negativo, lavoro positivo e lavoro negativo. Non c'è una verità assoluta. Scelta una convenzione sui segni bisogna usare sempre la stessa. Tipicamente si considera positivo il calore acquistato dal sistema e negativo il calore ceduto dal sistema, come indicato anche da questo schema. Il calore che entra è positivo. Invece quello che cambia, secondo delle convenzioni, è il segno del lavoro. Il lavoro eseguito dal sistema lo possiamo considerare positivo, quindi è lavoro che esce, tra virgolette, mentre il lavoro che entra, cioè il lavoro eseguito sul sistema, è considerato negativo. Utilizzando questa convenzione abbiamo che delta U è uguale a Q meno lavoro. Se noi invertiamo il segno per quanto riguarda il lavoro, e quindi consideriamo negativo il lavoro eseguito dal sistema e positivo il lavoro eseguito sul sistema, cambierà la formulazione del primo principio, che sarà delta U uguale a Q più lavoro questa volta. Alcuni preferiscono questa convenzione perché il segno negativo indica cessione di calore e anche, diciamo, cessione di lavoro. In ogni caso, la quantità di energia scambiata tra sistema e ambiente è uguale alla differenza tra l'energia interna di prodotti e di reagenti. All'interno di particolari apparecchiature è possibile fare avvenire reazioni a volume costante, ad esempio nelle bombe calorimetriche. In queste condizioni non c'è scambio di lavoro tra sistema e ambiente, cioè il lavoro è uguale a zero. Perciò, in base a quanto visto sul primo principio, se il lavoro è zero, abbiamo che delta U è uguale al calore, cioè la variazione di energia interna coincide con la quantità di calore scambiata tra sistema e ambiente. Il pedice V, che troviamo qui, indica che è calore scambiato a volume costante. Se la reazione è esotermica e avviene a volume costante, essendo Q negativo, il delta U assume valori negativi. E ovviamente, se la reazione è endotermica, cioè assorbe calore, Q è positivo e quindi l'energia del sistema aumenta e delta U è positivo. La maggior parte delle reazioni chimiche però avvengono a pressione atmosferica, cioè a pressione costante. In queste condizioni abbiamo scambio sia di lavoro che di calore tra sistema e ambiente. Il calore scambiato dal sistema a pressione costante corrisponde alla variazione di entalpia, che è una funzione di stato. Partendo dal primo principio, se noi andiamo a isolare Q, otteniamo delta U più lavoro. Se questo calore scambiato corrisponde alla variazione di entalpia, possiamo scrivere che delta H è uguale a delta U più, al posto del lavoro, scriviamo il prodotto tra pressione e variazione di volume, che corrisponde proprio al lavoro, diciamo, scambiato tra il sistema e l'ambiente. Dal momento che qui avevamo delle variazioni, se vogliamo dare una definizione di H, scriviamo semplicemente che H è uguale a U più P per V. Però noi in genere lavoriamo con variazioni delle funzioni di stato, ecco perché abbiamo indicato delta H. La variazione di entalpia delta H di un sistema chimico è uguale al calore scambiato a pressione costante, perciò delta H è negativo per le reazioni esotermiche. Infatti delta H è entalpia dei prodotti meno entalpia dei reagenti. Per rappresentare in modo completo una trasformazione chimica, dobbiamo perciò specificare anche la sua variazione di entalpia. In questo modo scriviamo un'equazione che è definita equazione termochimica. Questa reazione di formazione dell'acqua a partire da idrogeno e ossigeno ci dice che per ogni mole di ossigeno che reagisce, qui abbiamo una mole di ossigeno, si liberano 572 kJ di calore. L'ho già detto in precedenza, io uso il termine Joule e non Joule perché Joule è il nome dello scienziato da cui prende origine il nome dell'unità di misura di lavoro ed energia. Esistono delle tabelle che riportano i valori di entalpia per la formazione di diversi composti. In queste tabelle si riportano valori corrispondenti alla formazione di una mole di un composto a partire dagli elementi che lo costituiscono, ma quando questi sono nel cosiddetto stato standard. Una sostanza è nello stato standard quando è pura e si trova a una pressione di 1 atmosfera, cioè 10 alla quinta pascal, e alla temperatura di 25 gradi celsius, ovvero 298 kelvin. L'entalpia standard di formazione che si indica in questo modo con questo pallino e con F pedice che indica formazione è la variazione di entalpia che accompagna la formazione di una mole di composto a partire dagli elementi che lo costituiscono, ovviamente ciascuno nel proprio stato standard. L'entalpia standard di formazione di un elemento è pari a zero per definizione e vedremo negli esercizi che conoscere questi valori è utile per calcolare l'entalpia di reazione di un qualsiasi processo. Per il momento mi fermo qui sperando che il video vi sia stato utile. Io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao!